Ciao a tutti! Oggi cosa facciamo mamma? Oggi abbiamo Nella Pagnette! Perché giocheremo di nuovo a indovina il disegno E questa volta Indovina il cartone! Invece del frutto Dei frutti Indovineremo Il personaggio dei cartoni animati Quindi possiamo scegliere un personaggio qualunque Di qualsiasi cartone animato Nuovo, vecchio Quello che ci piace Quello che ci piace di più E lo disegneremo sulla lavagnetta E l'altro dovrà indominarlo Facendo le domande Una domanda a ciascuna Fino all'ultimo round Dove disegneremo E faremo le domande contemporaneamente Per Per vincere E vince chi arriva a tre punti Sei pronta? Inizi tu? Sì Vai Non lo fare è molto difficile Che ogni volta che mi fai mai vincere Vinci sempre tu Fatto? Fatto Posso fare le domande? Sì sì Allora fallo vedere Così anche da casa possono giocare Ok Allora È un animale? No È una persona quindi? Sì È una persona animale È maschile o femmina? Femmina Guffetta? No no È... Ha un costume? No Non è un supereroe? No no Allora Ha i capelli lunghi? Non tanto Non tanto Cortini c'è li ha Ravelli È cartone del flupalù? No no Ha dei superpoteri? Uno sì Solo uno Che animale è? Mamma non lo posso dire È un cane? No È un cane È un... Ti arrendi? Mi arrendo Mei Mei Il cartone nuovo di Mei Mei Accidenti Questo era troppo difficile Ma Mei Mei L'abbiamo appena visto ieri Appena ieri Sì Era il panda rosso Ah il panda rosso È troppo difficile di fare Non sono... Non sono aggiornato io Con questi cartoni nuovi Tocca a me Allora un punto per te Va bene Ehm... Vado Non vi c'è Ok Sei pronta? Sì Io quasi Ok Ok Vuoi fare le domande? Ehm... È il cartone di George? No Leo Tig? No Ehm... Ha un superpotere? No Ha le ali? No Ha le orecchie? Sì Tutti hanno le orecchie Ok Le orecchie Ce l'ha Le orecchie ce l'ha È una persona? No È un animale? Sì Il panda? No L'orso? No Mi si sono... Ci sono avvicinata Ehm... Non ho tanto Ti dà un indizio? Sì È un coniglio Ma capito Mi stai intendendo Baspanni No Baspanni È l'unico Ehm... È bianco? No È verde? No È un coniglio verde Sì È nero? Sì È pink? Sì È pink Ma che le hai fatto? È pink Ma perché le hai fatto sopra? È bellissimo Sì Ok Allora un altro punto per te Sì Ok E adesso disegniamo contemporaneamente e facciamo le domande Anche se stiamo due punti a zero Perché io mi sono arreso Allora Disegniamo Un attimino che devo pensare il cartone Ecco qui è bellissimo È un mio disegno No ma non mi direi che hai sbagliato No no Cioè È perfetto Fa vedere il tuo Finito? Un attimino ancora no Scusa ma questo è un disegno davvero difficile Fatto? Finito Chi inizi a fare le domande? Tu Mi chiedo io È un animale? Sì Tocca a te È un animale? Sì È una rana? No Tocca a te È mamma È una scimmia No Hai il tuo bel poderi? No A te È il pelo? Sì È il leone? No Sì però Il re è il leone Tocca a me È un costume? No no A te C'era solo di carnevale Ah ok Che costruisce A te È nero? No È maschio o femmina? Maschio Tocca a te Il tuo maschio o femmina? Femmina Costruisce delle cose? Sì È un gatto Sì È un gatto È un osso È un osso? No Tocca a me? Sì Ho capito chi sei tu Chi è? I Buffy Cats È divinire un personaggio È Milady? Sì È il mio milagro Io li vado L'ho fatto uguale L'ho fatto uguale Non so come c'è il canio che ho È bellissima Lui sai qual è il mio? E quindi hai vinto il tuo Vediamo se indomina il tuo Ok Era Non lo so Willy il coyote No Chi è? Ti ero lì? Sì Mi arrendo Non tommeno hai già vinto GIOORGE Era GIOORGE Sembrano gli eti Io vado E gli ho fatto il velo Che vuoi Va bene È la sfida di oggi E anche questa volta È stata vinta l'alice Che ha indominiato Milady Che era difficilissimo Guarda È vero? Già Milady Milady Sì E allora Con tre punti A zero Perché io non ho indominiato Nessun personaggio Vince E dice Ecco la bellissima sfida Delle lavagnette Indomina il cartone Viva lice Vi salutiamo E ci vediamo Alla prossima Ciao 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 E comunque Quello è l'uomo delle nevi Non è vero GIOORGE Grazie a tutti Grazie a tutti